Il CETA, l'accordo di libero scambio con il Canada, lei ha detto bisogna procedere, non proteggere le nostre merci, obietta il 5 Stelle che dice se va avanti così salta il governo. Ma guardi, il CETA è in vigore, anche qui usciamo dai proclami, usciamo dagli approcci un tanto al chilo, visto che mi occupo di agricoltura, il CETA è in vigore. E quindi si va avanti. Ma no che quindi, i risultati sono chiari, basta vedere i numeri. Ma con tutti i produttori per individuare dove ci sono le criticità, sapendo che qui c'è una ministra che al centro del suo programma ha la valorizzazione dell'eccellenza, le nostre tipicità e l'identità territoriale.